Oggi in seconda commissione abbiamo approvato una risoluzione importante che chiede di passare 7 km di strada statale 16 che insistono su Silvi dal comune all'ANAS affinché ANAS possa stabilire un percorso di manutenzione e di sicurezza soprattutto di quel territorio che sappiamo tutti in questi mesi sta subendo un'offesa importante a seguito del sequestro dei viadotti sulla 14. Oltre 18.000 veicoli si riversano quotidianamente sulle strade di Silvi e da questo punto di vista la nostra regione deve prendere un impegno. Attraverso la mia risoluzione lo abbiamo chiesto all'unanimità dei componenti della commissione al presidente Marsilio.